Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, visto che in tanti mi avete chiesto come sto ho deciso di fare il video su come sto come potete notare sto meglio penso che si nota che sto meglio da questo orecchio ci sento quasi bene non proprio bene bene praticamente ieri che sono stata diciamo in guardia medica ci ho messo l'olio non so se ve l'avevo detto nel video di ieri poi chiaramente qualcuno mi ha anche consigliato mettici l'acqua calda io l'ho fatto pare che va meglio però non va proprio bene 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 spero di riuscire a sentire come prima, mi auguro almeno in guardia medica mi hanno detto che non avevo nulla di grave chiaramente non ancora mi passa proprio il nervoso che mi è venuto ieri perché non è bello prendersi il gioco dei pacchenti non è assolutamente bello io sono convinta che questa qua è una di quelle che se va in giro per chieti si mette a prendere in giro le persone diverse tipo chi sta sulla sede a rotelle chi non cammina bene chi non parla bene e quant'altro perché se l'ha fatto con me lo può fare anche con gli altri e non è bello prendersi il gioco delle sofferenze di altre persone certo nel mio caso è diverto perché non è che io sono nata sorda però ieri mi sono spaventata tanto perché con questo orecchio ormai non ci sentivo quasi più e quest'altro sta andando dietro a quest'altro orecchio quindi ho detto qua bisogna fare qualcosa perché se no rischio di diventare sorda per fortuna non sono riuscita a perdere l'udito perché chiaramente poi era un bel problema infatti sto meglio proprio e quindi ragazzi per questo è tutto se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale perché non ha senso che mi seguite se non siete iscritti quindi iscrivetevi